Area X, il progetto di divulgazione della cultura assicurativa di Intesa San Paolo Assicura, sta sempre di più rafforzando il concetto protezione sport. Finora abbiamo parlato di sport con gli sportivi, o durante fasi del loro percorso o anche a conclusione di fasi importanti dei percorsi degli sportivi. Qua invece stiamo investendo insieme ai giovani talenti per il raggiungimento di un obiettivo, il raggiungimento di un sogno. Sappiamo che un sogno si può trasformare in realtà, e quindi è quello che auguriamo ai giovani ragazzini che seguiranno questo percorso, ma nel raggiungere questo sogno il percorso non necessariamente sarà un percorso netto, potrà avere qualche piccola deviazione. Noi vogliamo essere a fianco, nel momento in cui indirizziamo i giovani verso questo loro sogno, e vogliamo anche trasferirgli un messaggio di importanza nel pensare a tutte le tappe che li avvicinerà al raggiungimento del loro traguardo. Ai Tennis Foundation nasce nel 2018 su un'iniziativa di altri professionisti di Torino per agevolare i giovani talenti nel loro percorso formativo. La vision è quella di dare l'opportunità a chi non ha le possibilità, e più nello specifico la mission è quella di allargare le maglie di accesso allo sport, in particolare al tennis, ai giovani talenti e agevolarli nel loro percorso formativo. Il progetto Intesa San Paolo Sicura Little Tennis Champions 2022-2023 nasce da questa collaborazione importante con Intesa San Paolo Sicura e elargisce 12 borse di studio a 12 ragazzini italiani, 6 maschi e 6 femmine, per agevolarli nel loro percorso tennistico. Quindi la borse di studio include dei momenti di formazione tennistica importanti presso le migliori accademi italiane ed europee, nonché un percorso didattico che aiuterà ovviamente questi giovani ragazzi nel loro presente tennistico. La collaborazione con Intesa San Paolo Sicura è molto importante per noi perché dà solidità al progetto, sposandone il contributo valoriale. Sicuramente è importante anche le lezioni formative che Intesa San Paolo Sicura tramite il proprio staff darà ai ragazzi in materia di protezione e di tutela assicurativa, che sono temi importanti per questi ragazzi anche a quest'età, soprattutto nel mondo dello sport. Abbiamo coperto tutta una rosa di iniziative. Nel momento in cui parliamo di cultura della protezione, dobbiamo anche parlare di formazione. Quindi parleremo con i ragazzi, cercando di trasferire a loro con un messaggio semplice, un messaggio adeguato alla loro età, proprio dei concetti che sono di formazione e di divulgazione. Li accompagneremo in modo pratico, economico, attraverso il sostegno alle loro borse sportive. Non mi piace chiamarle borse di studio perché sarà un momento che non è legato allo studio, ma è legato al loro percorso sportivo. E poi li sosterremo anche attraverso delle coperture assicurative, di cui ci auguriamo che non abbiano assolutamente bisogno, ma che in ogni caso saranno lì al loro fianco a proteggere il loro sogno. Quindi questo pacchetto completo, questa rosa di iniziative, andrà a supportarli in modo pratico e a valorizzare ancora di più l'impegno di Intesa San Polo Assicura e di protezione sport proprio verso questi giovani ragazzi.